Sono Vittoria Poggio, Marco Protopapa e Enrico Bussalino, Rossella Gatti, quattro candidati della Lega alle prossime elezioni regionali dell'8 e 9 giugno. Sono stati presentati questa mattina nella sede Alessandrina del Carroccio alla presenza del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e al segretario provinciale Lino Petazzi. Si è offerta la ricandidatura agli uscenti, l'assessore Protopapa e l'assessore Vittoria Poggio hanno deciso di ricandidarsi, quindi faranno in lista. Voglio ringraziare Daniele Poggio invece che ha deciso di fermarsi e nonostante il lavoro che ha fatto in regione gli altri due candidati saranno Enrico Bussalino, attuale presidente della provincia di Alessandria e Rossella Gatti, assessore del comune di Valenza. I candidati sono quattro candidati che cercano di dare rappresentanza a diverse aree della provincia e insomma si impegneranno a portare avanti il messaggio della Lega nelle prossime settimane fino all'edizione. Tra i temi principali di questa campagna elettorale per Vittoria Poggio sono importanti autonomia, sicurezza e territorio, mentre Marco Protopapa ha sottolineato come insieme all'assessore Poggio abbiano lavorato per favorire il turismo in Piemonte. Enrico Bussalino ha ricordato l'impegno contro il deposito di scorie nucleari ed il progetto eolico di Montegiarolo ed infine Rossella Gatti, assessora al comune di Valenza, ha messo il punto sulle politiche a favore della parità di genere e contro la violenza sulle donne. Grazie.